Cari amici, buonasera, siamo in diretta su Iris Press TV, in attività per voi lezioni di stile direttamente da Hollywood Milano con noi questa sera una grande amica della vostra trasmissione, Giuseppi, per un grande spettacolo questa sera la sfilata Iris, molto divertente per noi, le nostre ballette qui Giulia e Amanda anche il nostro nuovo acquisto Giancarlo ci hanno aiutato a realizzare questo piccolo show che mi chiamiamo Hollywood Milano, questo è un'ottima spettacolare, questo è un'ottima spettacolare e questo è un'ottima spettacolare, ma direi di sì, visto che abbiamo visto in sfilata queste miss che partivano dai 15 anni quasi fino ai 70, quindi abbiamo visto di tutti i valori, perché partiamo da questo presupposto cari amiche, cari fashioniste, la moda deve essere seguita, però ti devi trovare il tuo stile e con l'attitudine giusta sarai molto femminile e bella se tu ti senti nei tuoi palmi questo è un messaggio per questo momento, cosa pensi? Ottimo, che parole migliori non potevi trovare, perché alla fine, dato che esistono tante sfumature femminili ovviamente noi dovremmo trovare la nostra e non avercela bene addosso Ottimo pensiero Ottimo pensiero Anche se vi è il maschio, il messaggio perfetto Quindi la moda passa per lo stile resta State con noi, ciao